Benvenuti a Terra Madre, ovviamente maestro del gusto, maestro del gusto significa caffè e quale migliore scelta che Dropsteri, maestro del gusto, proprio per il tuo caffè? In via Stradella, insomma questa torrefazione artigianale bar che porta la cultura del caffè a Torino ma cosa significa per voi essere maestro del gusto? Innanzitutto essere maestro del gusto è un riconoscimento molto importante perché come tu sai, non so se tutti lo sanno per essere maestro del gusto devi rispettare dei canoni molto importanti, quindi farne parte è ovviamente una cosa che non è tanto scontata quindi è già un sinonimo che ci fa onore e ci fa orgoglio in questo in più mette dalle attività come la nostra di mettersi in risalto e magari chi lo sa anche avere delle possibilità di collaborazioni con altri maestri Il caffè che stiamo bevendo, che c'è gentilmente offerto, arriva dal Costa Rica, è spettacolare come tutti i suoi caffè però cosa significa oggi fare cultura del caffè a Torino? Allora è un momento molto importante per fare cultura perché ora abbiamo il consumatore che si è sensibilizzato assolutamente vuole qualità non solo dall'antipasto al dolce ma vuole concludere anche con il momento caffè e quindi per noi è un'occasione importantissima, visto che conosciamo tutta la filiera abbiamo una piantagione come tu sai in Honduras, siamo in grado di coprire tutta la filiera e quindi siamo ovviamente una realtà che ha tutti gli effetti alle carte regola per poter offrire ai propri consumatori non solo un prodotto di alta qualità ma far vivere proprio un'emozione come quella che abbiamo vissuto noi insieme quindi cosa facciamo noi? Non facciamo solo il nostro lavoro fatto bene ma cerchiamo di guidare il consumatore facendogli anche comprendere come ci si va ad approcciare a un caffè di qualità ovviamente con tutte le sue sfaccettature Perfetto, maestro del gusto, Torino-Honduras per un caffè di qualità